Un bookmaker sa essere disinteressato e comprensivo E a me chi me la dà una mano, eh? Chi è che paga quando vinci? Sloggia! Capito? Sloggia! Sa essere sereno Mamma Sa essere dirittivo Io adoro la rotta Ma stia lontano da quella rotta Tutto questo naturalmente se il bookmaker è World of the House E io mi gioco la bambina Giovedì 20.40, Rai 2 La saldettina più utile che c'è E io mi piace di superiore di un'ultima Io mi piace di superiore di un'altima E io mi piace di superiore di un'altima Per un'altra cosa La 3 Ma non io non mi piace di superiore di un'altima Passa avanti! Passa con gli adagli! Più valori con i regali pavesi. La giacca vale di più. Dentro il gilet, la valigia vale di più. Dentro i portabili e il gilet vale di più. È indottito. In regalo da tutti i prodotti pavesi. Scocca rinforzata. Barre laterali anti-intrusioni. Sperzo con la sabine di semi. Airbag, pretenzionatori e ABS a richiesta. Per parlare di sicurezza, LanciaDedra ha scelto un linguaggio concreto. Perché la serenità non viaggia sulle parole. LanciaDedra. Sicurezza interiore. Marco, ma mi ami? Ma quanto mi ami? Mi senti? Ma quanto mi senti? Oh, scusa, scusa, ho un'altra telefonata. Aspetta. Ciao, Andrea. Mi ami? E quanto mi ami? A video di chiamata. Informati al 187. Allora ciao, Andrea. Ciao, ciao. Pronto, Marco? Mi ami ancora? Sì, ma tanto quanto. Design modernissimo. Ecco la pesapersona elettronica Roventa. Altissima precisione elettronica. Garantita da Roventa. Roventa, per chi non si accontenta. Prasmettiamo ora a TG2 e dossier. Il titolo di questa sera è Sesso ad Altro Mondo. Un'inchiesta su come gli italiani vive un eccesso. Ma ora a TG2. Grazie a tutti.